6 speed check, rilevatori di velocità concepiti per la prevenzione dell'eccesso di velocità, sono stati appena installati sulle strade del territorio comunale di Farenzabina, 4 nei centri urbani di Talocci, Coltodino, Canneto e Borgo Quinzio, 2 sulla via Farenze, in punti pericolosi come l'incrocio con via Giovanni Falcone a Passo Corese. Questa è soltanto l'ultima in ordine cronologico delle azioni che stiamo mettendo in campo per aumentare il grado di sicurezza della nostra città. Con questi strumenti vogliamo prevenire tutte le conseguenze nefaste che derivano dall'eccesso di velocità nelle strade provinciali di nostra competenza e nei centri abitati. Da oggi le strade di Fara in Sabina avranno un controllo maggiore. Dimostriamo con i fatti che per noi la sicurezza viene prima di tutti, è quanto dichiara il sindaco Davide Basilicata.